Buongiorno, certamente il titolo potrebbe essere equivoco, perché quando noi in genere parliamo di valori, parliamo di giustizia, parliamo di verità, parliamo di capacità di essere consonanti nei confronti di coloro che magari soffrono e via di questo passo. Nella riflessione di oggi il concetto di valore va collocato alla base di tutte queste cose. Ci sono dei valori che permettono di vivere il valore della giustizia, della verità, della compassione e via di questo passo. Noi oggi tratteremo di questi valori profondi, nascosti, non di questi valori che sono immediatamente percepibili e casomai anche giudicabili qualora dovessero mancare in una persona o in un gruppo o via di questo passo. E perciò il discorso che noi faremo oggi sarà leggermente impegnativo, perché quando si va giù in miniera c'è poca luce, la realtà non la si trova subito, ma quando si riesce a intravederla e si riesce poi eventualmente ad averne un contatto, si riesce a capire che quelli sono i valori che meritano essere presi in considerazione, perché allora tutti gli altri valori prendono significato e sapore. Per fare questo, noi rimaniamo sempre dentro alla nostra area di ricerca, che sono i comandamenti. E se avessimo tempo e modo, potremmo leggere il testo del libro dell'Esodo che va dal capitolo 19 al capitolo 34. Non sono tantissimi. 16 capitoli non fanno male a nessuno, però se ci mettiamo a leggerli ci portano via tre quarti d'ora. E quindi questi tre quarti d'ora li adoperate voi a casa vostra. Capitolo dal 19 al 34. Capitolo dal 19 al 34. Siamo ai piedi del Sina, il Padre Eterno dialoga con Mosè, perché gli ebrei ormai non ne vogliono più sapere, hanno paura. Ed Dio chiede al popolo se vuol fare un'alleanza. Il popolo risponde sì. Allora inizia questa alleanza. Primo punto è il decalogo. Poi ci sono un mucchio di altre leggi. Mosè scende dal monte con queste leggi. Cosa trova? Trova gli ebrei che ci sono fatti il vitello d'oro. A Mosè girano i raggi di luce. Nel Medioevo veniva tradotto con corni, ma è sbagliato, è proprio raggio. E rompe le tavole. Al che il Padre Eterno dice, scusa, te l'ho scritta col mio ditino e tu me le mandi in frantumi? Eh no. E allora nascono le seconde tavole della legge e viene rifatta l'alleanza. E con il capitolo 34 si chiude questa strana cosa chiamata alleanza. Noi oggi cercheremo di capire che cosa vuol dire questa alleanza e quali sono i valori che presuppone. Perché è da questi valori che poi nasce eventualmente la capacità di accogliere o non accogliere i dieci comandamenti con le altre 670 leggi che esistono nella Torah. Ma contemporaneamente saranno questi valori che porteranno alla logicità del vivere quei comandamenti di fatto salvo la debolezza poi di ciascuno. Se noi inquadriamo il decalogo dentro a questa istituzione, la prima cosa che dobbiamo dire è che il decalogo non contiene regole che devono essere osservate. Non sono queste le cose più importanti. Non sono un codice indipendente da qualcosa d'altro. Noi cresciamo con una civiltà di cittadini, una mentalità dunque di gente che appartiene ad uno Stato dove ci sono delle leggi. Le leggi devono essere osservate. Perché? Perché altrimenti c'è la punizione. Tu superi di 20 chilometri all'ora, appatapanf. Se c'è il vigile ti arriva la multa. E se non c'è? L'hai fatta franca e non hai nessun rimorso. Purtroppo questa è la nostra mentalità quando pensiamo a un codice di leggi. C'è la legge. C'è la punizione per chi trasgredisce. Se ce la fai a fare. La trasgressione nessuno ti punisce. E invece noi oggi toccheremo alcune cose che proprio ci dicono che questa è una mentalità assolutamente estranea a coloro che entrano nella logica del testo biblico. Comandamenti sono, dentro al testo biblico, un suggerimento di un, per un rapporto. Non sono regole da rispettare perché hanno valore in sé, in senso assoluto e autonomo, ma sono regole da rispettare perché queste regole fanno parte, diciamo fra virgolette, di un'autenticità, di un legame tra l'uomo e Dio e tra l'uomo e l'uomo. Oltre che dell'uomo con sé stesso. Questo organismo, o questa struttura giuridica, chiamiamola così, che ha una mentalità diversa dalla nostra, si chiama Berit, alleanza. E' quella parolina ebraica che trovate alla linea 11. La prima letterina è una B, i due puntini sotto sono una E. Poi quella tettoia è una R. L'apostrofo, oppure il puntino sotto la tettoia, è una I lunga, quella virgoletta che trovate accanto al puntino è l'accento, e l'ultima lettera è un Tau, una T, Berit. Questa istituzione giuridica è un'istituzione riconosciuta in tutti i popoli semiti. Noi abbiamo nel mondo mesopotamico, sia nella civiltà siria, sia in quella babilonese, un mucchio di documentazione di questi trattati, di queste Berit, di queste alleanze. Questa istituzione ha contaminato anche gli Ittiti, per cui anche in terra turca sono stati trovati moltissimi documenti che ci testimoniano come questa Berit fosse una istituzione che permeava tutta la società. Non c'è la Berit, cioè l'alleanza solo fra Stato e Stato, ma anche fra città e città, fra gruppi di cittadini e anche fra singole persone. Era dunque un qualche cosa che invadeva la vita quotidiana. Pensate che anche fra due amici c'era una Berit. Questa Berit normalmente che tipo di funzione aveva? Non aveva tanto la funzione di dire tu ti impegni con me in questo, io mi impegno con te in quest'altro, ma aveva un'altra funzione. Prima di tutto questo, tu dell'altro potevi fidarti ciecamente. La Berit era una istituzione della fiducia. Questo potrebbe essere il riassunto di tutto ciò che noi diremo oggi, per cui io adesso posso alzarmi e andarmene. Cerchiamo di vedere come. Certamente il popolo ebraico non è che abbia fatto una Berit con Dio. Il rapporto che esiste fra l'uomo e Dio è un rapporto molto più complesso. Però gli ebrei si sono serviti di questo schema culturale per spiegare questo legame. Prova ne sia che questo legame che il popolo ha con Dio normalmente viene spiegato come Berit, come alleanza. Ma molto spesso viene spiegato come matrimonio. Molto spesso viene spiegato come il rapporto fra il pastore e il gregge, come il contadino e la sua vigna. Noi abbiamo dunque diverse figure che superano la Berit. La Berit è un modo, il matrimonio è un altro modo, il rapporto che c'è fra il pastore e il gregge, il contadino e la sua vigna, sono altri modi per dire sempre la stessa cosa, cioè questo legame. Noi oggi esploreremo uno di questi modi che il popolo ebraico ha adoperato per spiegare questo legame. E questa spiegazione deve essere stata molto importante se Gesù Cristo l'ha presa di sana pianta e l'ha applicata al cristianesimo. Il cristianesimo viene chiamato Nuova Berit, Nuova Alleanza, Oggi noi cercheremo di capire questo. Cosa sta sotto? Come si può frantumare, nel senso di spezzettare per capire per singole parti, questa fiducia che è il valore di fondo? Allora, diciamo subito che l'alleanza non la può contrarre chiunque, ma è sempre il partner più forte che la propone al partner più debole. Questo è un dato molto importante. Non ha il partner più debole a chiederla, non può. Secondo, quanti tipi di alleanza noi conosciamo? Beh, fondamentalmente tre. L'alleanza unilaterale ingiuntiva. Il partner più forte avvicinava quello più debole e diceva Tu devi. Il più debole riceveva questa incombenza, ma non aveva nessun tipo di premio in contraccambio. Doveva farlo, punto e basta. Oppure, la seconda, secondo tipo di alleanza era la unilaterale donativa. Il partner più forte donava, regalava, si impegnava in qualche cosa nei confronti di quello più debole, senza chiedergli niente. Era esattamente l'opposto della precedente. Nella precedente, il più debole, era gravato di un impegno senza ricompensa. Nella unilaterale donativa, invece, era il più forte che si autoimpegnava in qualche cosa in favore del più debole, senza chiedere niente in contraccambio. Mentre invece c'era la terza alleanza, che era l'alleanza bilaterale. Nell'alleanza bilaterale, invece, tutti i due partner si impegnavano in qualche cosa. Ora, se noi diamo uno sguardo velocissimo all'Antico Testamento, noi notiamo che esistono queste alleanze e sono di vario tipo. C'è, per esempio, nel Paradiso Terrestre un'alleanza tra Dio e Adamo. quando Dio dice ad Adamo tutto questo è tuo. Tutto questo è tuo significa io mi impegno in un'alleanza unilaterale donativa. Poi, Dio dice di questo frutto tu non devi mangiare. questa è un'alleanza unilaterale ingiuntiva. In una frase ci sono due alleanze. Adamo non dice una parola. Dice niente. Non è bilaterale. perché nella bilaterale tutti e due i protagonisti sono protagonisti. Questa è unilaterale in quanto Dio e Adamo vengono uniti da un patto dettato da Dio dove Adamo non vede becco. Quindi è un'alleanza unilaterale donativa da una parte ingiuntiva dall'altra. la cosa che a noi non desta eccessiva meraviglia e qui sbagliamo è che ogni alleanza sia donativa sia ingiuntiva sia bilaterale comporta la pena di morte per chi la trasgredisce. Ed è qui l'imbroglio perché quando Adamo ed Eva si chiamava Mario e Genoveffa è la stessa cosa. Questa umanità nascente fa una scelta che va in direzione totalmente diversa rispetto all'alleanza stipulata è chiaro che scatta la morte. E questa umanità privata della caratteristica dell'immortalità ci è stata trasmessa. Peccato originale è tutto qui, eh? Noi siamo semplicemente eredi di un'umanità impoverita. L'impoverimento è arrivato alle origini quello è il peccato delle origini noi non abbiamo fatto nessun peccato ma abbiamo questa umanità che è meno ricca di quello che poteva essere. c'è un'alleanza donativa soltanto con Noè dove Dio si impegna a non mandare più il diluvio. C'è un'alleanza unilaterale donativa con Abramo e poi ce n'è un'altra bilaterale. nel capitolo 15 Dio si impegna a dare ad Abramo la terra una discendenza e un popolo che non scomparirà dalla storia e non chiede niente in contraccambio mentre invece al capitolo 17 dice io ti do tutto questo tu fai la circoncisione. Poi abbiamo finalmente la nostra alleanza quella che noi studieremo quella che noi prenderemo in considerazione che è un'alleanza bilaterale al Sinai è avvenuto questo e poi linea 26 c'è un errore non è capitolo 32 ma capitolo 31 quello di Geremia anche Don Renato sbaglia luna di notte e beh perché questi schemi certamente non li faccio durante il giorno c'è l'alleanza con il Messia e questa alleanza invece è un'alleanza unilaterale donativa noi viviamo dentro un'alleanza unilaterale donativa già questo dovrebbe inquietarci perché l'impostazione mentale nostra è un'impostazione mentale un pochettino ebraica non cristiana nei rapporti con Dio normalmente il cristianesimo ha questo tipo di mentalità tu mi dai io ti do e se io non ti do tu non mi dai cinquecento anni fa abbiamo avuto la rottura tra nord Europa e sud Europa a livello religioso proprio per l'equivoco di questo tu mi dai io ti do i teologi sia protestanti sia cattolici dopo cinquecento anni hanno detto ma che scemata abbiamo fatto dal momento che siamo tutti e due d'accordo perché non si è salvati né per fede né per merito né secondo la vulgata protestante né secondo la vulgata cattolica perché per quasi quattrocentocinquantane si è trasmesso questa mentalità i protestanti dicono che noi ci salviamo per fede proprio no e noi cattolici diciamo invece no ci salviamo per merito proprio no quando questi teologi dopo essersi parlati per parecchi anni hanno chiarito le posizioni reciproche tutte e due hanno detto no accidenti tutti e due stiamo dicendo che ci si salva per grazia né per fede né per merito ma per grazia certamente la fede è necessaria e certamente il merito è necessario ma la concezione della fede non è quella che abbiamo normalmente a livello popolare e a livello di merito il concetto è totalmente sbagliato quando noi pensiamo al merito pensiamo ai punti della cop e allora se fai un'azione piccola hai un bollino piccolo e se fai un'azione piuttosto buona piuttosto consistente hai un plaf poi vai del padre eterno con tutti i bollini ciccioni o piccoletti e dici io voglio una poltrona frau così in paradiso sto comodo proviamo a entrare dentro invece a una teologia sana il battesimo ti fa una cosa sola con Cristo tu e Cristo sete una cosa sola perché il battezzato viene inestato in Cristo se questo tipo di unità si mantiene nella vita non c'è la scelta di rompere questa unità qualunque cosa tu faccia non sei solo tu a farla e anche lui a farla e siccome lui ha un piccolo difetto che essere Dio tutto ciò che lui fa ha valore infinito e quindi qualunque azione tu faccia ha valore infinito quanto merito hai infinito contalo tu se sei capace mai 300 giorni di indulgenza non ci sono più Paolo VI ha dato via una scopata a tutta questa roba qua e ha detto è finita perché genera solo equivoco quei 300 giorni di indulgenza era equivalente a 300 giorni di penitenza nella chiesa antica tu venivi a confessarti da me io coi corni che ti davo la soluzione subito ti facevo fare tre anni quattro anni di penitenza poi venivi e prendevi la soluzione e qualcuno ha cominciato a dire è troppo e la chiesa dice sì è vero allora guarda invece che 300 giorni di penitenza di questa preghiera che è l'equivalente sì ma io ho quattro anni e la vedi cinque volte una volta al giorno in cinque giorni combini tutto questa è l'indulgenza dei 300 giorni mi spiego è una forma compatta di fare penitenza per cui è venuta adesso l'abitudine di dire di una preghiera per penitenza tre ave marie fine e noi continuiamo ovviamente con questa idea a spanne a crearci una fede o una visione di fede che non è proprio esatta i nostri vecchi preti dicevano sì sempre in grazia di Dio traduzione rimani sempre tu e Cristo una cosa sola rimani sempre in questa situazione non c'è poi problema per la salvezza rimani in questa situazione ma chi ha messo queste regole noi o lui lui bene questo si chiama grazie non devi fare matematica con Dio perché quando fai matematica perdi conti se tu pensi che uno che è stato ladro omicida che so io violento incendiario e quanto più ne hai più ne metti viene condannato a morte per questo ed è il primo santo della chiesa cerca di capire come si fanno i conti con il Padre Eterno i nostri conti non funzionano venti centesimi della vedova sono più dei venti euro del ricco che mette nel tesoro del tempio venti centesimi Gesù dice ha dato più di tutti fai i conti tu con questa logica mi seguite? la nostra fede cristiana è un'alleanza unilaterale donativa di l'anima